Ciao ragazze, oggi vi parlo un pochino dell'interscharm, alla fine di questo video vi metterò i mini video che ho fatto all'interno della fiera, non mi sentirete parlare perché comunque solo in due o tre forse parlo, perché in altri non si sarebbe sentito perché c'era veramente tanto chiasso, però comunque vi scrivo le didascalie di quello che ho inquadrato, è stata una bella esperienza perché è stata la mia prima esperienza in una fiera della bellezza, della Cosmesi, sono stata soddisfattissima per quanto riguarda il settore unghie perché era veramente ricco, io non so gli altri anni perché non ci sono mai stata, però ho trovato tantissimi stand molto molto carini con tantissime cose in vendita a prezzi bassi, quindi soddisfatta, poi comunque vi farò un video a parte dove vi faccio vedere tutto il mio acquistone, che è più che altro di unghie, ci sono solo due cosine dei capelli ma è tutto unghie, l'unica cosa è che tante ragazze, anche io devo dire la verità, siamo state un po' rimaste un po' deluse perché per quanto riguarda il make up non c'era assolutamente niente, tipo ci saranno stati 5 stand in un padiglione enorme, quindi se uno andava proprio per quello rimaneva non deluso ma di più, perché proprio non... e poi anche come prezzi non erano molto bassi quelli dei make up, quindi c'erano tantissimi dei trattamenti, abbiamo visto quello dove applicavano l'extension alle ciglia che a me ha fatto un po' impressione, infatti ci sarà uno spezzone di video che non si vede perché scusatemi per i video che vedrete fra poco, ma non avendo la fotocamera non riuscivo bene a inquadrare, a zoomare, quindi ho fatto quello che ho potuto, quindi scusatemi se non vedete benissimo, però io mi sono messa di impegno perché comunque ho pensato a voi e ho pensato appunto di farvi vedere uno scorcio di quello che è stato all'interno dell'Inter Charm, e niente, quindi di make up non c'era praticamente nulla, di unghie abbastanza, tutto il padiglione di sopra perché erano due padiglioni, uno di sotto che era diviso in bellezza, make up e nail, e di sopra c'era il reparto capelli che però era suddiviso, c'era l'area riservata dove facevano poi i vari monumenti alle teste, che quello era a pagamento, quindi non si poteva accedere se non pagando non so quanto in più oltre al biglietto, e poi invece la parte che potevano visitare le persone che comunque erano entrate nell'Inter Charm e c'erano tutti i reparti dei vari trattamenti per i capelli, poi c'era quello che aveva solo le extension, le parrucche, poi non so per quale motivo c'erano tipo delle specie di bancarelle che trovi al mercato, di questi indiani che avevano orecchini, collane, sciarpe, non so cosa c'entrassero, comunque vabbè, e niente, poi non siamo state tantissimo perché l'abbiamo visitata dalle 11 qualcosa, sì forse erano già le 11 e mezza, sì 11 e mezza fino alle 4, 4 e mezza contando che siamo state ferme, non dico mezz'ora, forse poco più, comunque più o meno per mangiare, quindi veramente visitabile in pochissimo tempo, infatti poi alle 4 e mezza siamo uscite da lì e abbiamo preso la metro e siamo andate in centro a Milano, così per farci un giretto, un pieno di gente, veramente, io non sono abituata a tutta sta gente insieme, quindi sono rimasta un attimo scioccata da tutta sta massa di gente che al sabato pomeriggio è nella via principale, che poi è normale, però io non vivo in una grande città, quindi sono rimasta un attimo così, comunque, ah, poi sono contentissima perché mi sono portata dietro il trolley, quindi ero comoda perché sapendo che dovevo acquistare cose un po' ingombranti e pesanti, ho detto è meglio non spaccarsi spalle e schiena ma portarsi un trolley, all'inizio non ero tanto convinta perché ho detto, boh, magari faccio un po' la figura di quella che fa così, però poi ho visto che all'interno c'erano tante altre ragazze che avevano loro trolley, perché se no veramente non si riusciva, ecco, sapendo che io devo fare un bel po' di acquisti, almeno la valigia, sapevo che mi serviva qualcosa, infatti devo dire che l'ho riempita, proprio non riuscivo quasi a chiuderla perché ci sono cose che ho preso un po' voluminose, quindi è stato un po', ci siamo messe per terra a pressare bene bene così rimanesse tutto ben messo lì dentro, e poi cos'altro dirvi, penso che il prossimo anno non ci andrò più perché comunque sono andata così per la novità, perché avevo la riduzione, ecco, chi ha pagato il biglietto intero secondo me è rimasto un attimo traumatizzato perché veramente pagare mi sembra 25 euro se non di più per vedere poco o niente è un po' così una delusione, ecco. Quindi questo è quanto, adesso vi lascio ai miei mini vlog che ho fatto all'interno dell'Intershar, ma adesso non so se si vedono ancora qua, ho questi brillantini che mi hanno applicato nel reparto capelli, che comunque vi farò vedere anche in un altro video che ho già girato, dove ho fatto il mio haul, e poi vedrete comunque la foto fra poco all'interno dei video, ho anche messo come me l'hanno applicati, e devo dire che sono rimasti, hanno detto che questi praticamente quando ti lavavi poi i capelli andavano via, ecco, io mi sono lavata i capelli e sono ancora qua belli attaccati, sono contenta perché comunque mi piacciono a me le cose che brillano, lo sapete più di me, però meno male che non faccio un lavoro o in un ufficio, perché sennò mi prenderebbero un attimo per così, vabbè, e niente, mi sembra di avervi detto tutto, sì, penso di sì, ancora scusatemi per i video che vedrete, che saranno un po' muti, con un baccano in mezzo, però ho voluto fare comunque qualche video qua e là, perché volevo rendervi partecipi in ogni caso, e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti